Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto dal titolo vi farò vedere le 8 cose che non hanno assolutamente senso del nuovo DLC Caio Perico e fidatevi che ce ne stanno tante altre Prima di cominciare con il video vi informo che la mia applicazione sul mondo di GT Online è nuovamente disponibile per scaricarla trovate il link del canale Telegram in descrizione ho fatto un canale Telegram apposito perché me l'hanno rimossa da Google insomma oramai lo sapete nonostante i 5000 download in 72 ore e via dicendo perché le immagini erano protette da copyright quindi brava Google c'avete ragione però me lo potevate dire prima invece di approvarmi l'applicazione però vabbè questi sono dettagli Scaricatela se vi va ovviamente nessun virus neanche ve lo dico e fatemi sapere cosa ne pensate Non so se molti di voi hanno notato questa cosa ma durante la prima missione di perlustrazione se andate a sbattere addosso le guardie le guardie sono di gomma letteralmente li rimbalzate addosso se lo fate durante le altre preparazioni non succederà niente quindi durante le altre missioni perlustrazione le potrete investire ovviamente non tutte perché alcune vi sgamano in automatico se li passate dietro Però durante la prima missione se li andate addosso sono fatte di gomma praticamente vi respingono così senza problemi è una cosa proprio che io ho provato distinto perché insomma durante la prima missione a Caio Brigo invece di guardare l'isola io andavo addosso alle guardie per vedere la reazione di Arrubbio che se ne è sbattuto altamente Sempre durante la prima missione insomma lo sapete che bisogna aspettare qualche secondo che Pavel ci dia l'ok noi intanto dobbiamo far finta di divertirci alla festa organizzata e poi dobbiamo scappare praticamente passando dietro a questa guardia Ovviamente finché non vi arriva il messaggio di Pavel non potete però guardate qua chiaramente se voi vi mettete qui invece di ballare e aspettate il messaggio di Pavel guardate che questa cosa non ha assolutamente senso Praticamente anche se gli state davanti la guardia se ne andrà senza problemi e voi potrete andare quindi da questo punto di vista Rockstar si poteva un attimo impegnare di più Poi vedete qui stavo proseguendo ma la guardia mi ha respinto con la forza del pensiero non so come abbia fatto onestamente però come vedete praticamente non lo so è un bug immagino una cosa che comunque devono sistemare E onestamente mi fa pensare che questo DLC l'abbiano fatto un po' coi piedi sicuramente poi una delle cose più fastidiose di questo aggiornamento sono sti cavolo di alberi che io non so di cosa sono fatti sti alberi Ma non lo so ci sarà dentro il cemento perché guardate qui un ramoscello contro una jeep mi ha sfondato il vetro neanche si è piegato Io adesso non dico che si deve rompere ma almeno per appunto passare perché veramente diventa una cosa ingestibile quando fate il colpo Adesso vabbè come vedete ad esempio questo qui non lo so neanche si vede perché comunque il gioco non è che regga benissimo quest'isola almeno sulla mia PS4 E soprattutto nelle zone dove c'è un sacco di foresta ovvero vicino alla villa di Arrubbio diventa veramente impossibile anche utilizzare la moto Perché praticamente dovete stare attenti alle guardie e schivare gli alberi fatti di cemento che guardate neanche si vedono alcune volte Vi fanno ribaltare e fate un sacco di casino quindi secondo me è una cosa che Rockstar doveva sistemare Dico la mia perché questa mappa doveva stare sul Red Dead e sul Red Dead giustamente non è che andate a sfondare gli alberi mi sembra logico Poi altra cosa che ho trovato su Reddit che è interessantissima ovvero che se vi buttate di sotto non aprite il paracadute ma atterrate davanti a una guardia Invece di morire giustamente la guardia vi arresterà quindi guardia che vi salva la vita Immagino sia un bug e onestamente non lo so però se è un bug Rockstar logicamente lo deve correggere Nel primo video che avevo fatto sulle posizioni insomma degli oggetti da utilizzare durante il colpo tutti quanti mi hanno chiesto ma dove trovo il tagliabulloni Ragazzi il tagliabulloni penso sia una delle cose più inutili di questo DLC ditemi quando avete fatto il colpo con il tagliabulloni Io ve lo dico la prima volta perché ero spawnato praticamente lì vicino e giustamente durante il primo colpo insomma durante il tutorial vi fa trovare il tagliabulloni Che alla fine comunque è inutile e vi spiego anche il perché Se sbloccate l'entrata canale di scolo avrete una missione preparazione in più che si chiama Torcia a Gas Con questa Torcia a Gas potete entrare dal canale di scolo fare tutto ciò che potevate fare con il tagliabulloni Quindi mi dovete spiegare il senso del tagliabulloni Una prep in meno ma non è neanche una preparazione perché ci mettete 3 minuti a prendere la fiamma ossidrica Quindi è veramente una cavolata e poi potete completare il colpo in neanche 5 minuti entrando dal canale di scolo Invece col tagliabulloni no Poi il tagliabulloni lo dovete trovare dovete pregare che vi spawna Cioè devo pure perdere tempo lo devo pure annapprende e non serve a niente Quindi onestamente Rockstar se la poteva risparmiare questa cosa Proprio perché abbiamo parlato della fiamma ossidrica Una cosa che non ha assolutamente senso della nuova fiamma ossidrica è che sta in acqua e non è attaccata a niente Adesso io un attimo ho cercato su internet e giustamente mi ricordavo bene insomma Le fiamme ossidriche hanno solitamente una bomboletta di gas per appunto far accendere la fiamma Come vedete la fiamma ossidrica è una pistola senza niente sotto E questa cosa non ha minimamente senso Anche in questo caso Rockstar si poteva un attimo impegnare a sistemare questa cosa Perché insomma Rockstar è sempre precisa soprattutto nelle piccolezze però vi ripeto questo DLC mi sembra fatto un po' di fretta Poi altra cosa che penso sia la più insensata di tutto il DLC è durante questa missione di preparazione per il colpo Che se non erro dovete prendere il tastierino o robe del genere insomma non mi ricordo Comunque entrerete in questo magazzino in cui appunto ci sarà appunto un computer da hackerare Ma ci saranno anche dei completi da narcotrafficante Adesso voi mi dovete spiegare il senso di questa cosa perché io devo rischiare la vita andare sull'isola E per trovare questi completi quando ce l'ho qui Quindi qui basta che li prendo sto allo Santos li consegno Sta cosa non lo so mi sembra messa lì da Rockstar proprio per pulare perché non ha minimamente senso come cosa Cioè io faccio la foto e dovrei avercelo in realtà no quindi devo andare sull'isola rischiare la vita per avere una cosa che potrei avere in una maniera molto più facile Poi la cosa che sicuramente insieme alla piante hanno odiato tutti quanti è il non poter andare sull'isola liberamente O meglio ci sta un modo per andarci ma è una zona limitata Quindi voi dopo aver completato il primo colpo avrete sulla mappa quest'icona Andando su quest'icona potrete raggiungere l'isola con i vostri amici anche Ma ci potrete andare solamente per la festa dei DJ Altra cosa che secondo me non ha minimamente senso perché se dovete renderla accessibile la rendete accessibile completamente Non è che mettete una spiaggetta giusto per andarci per far vedere che c'è una nuova isola Ma chi se ne frega tanto io non ci sono andato neanche una volta Per dirvi il nightclub che hanno aggiunto è più utile di quell'isoletta messa così Ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Vi ringrazio la visione e noi ci vediamo al prossimo video